Leve psicologiche per vendere. Oggi rispondo ad una domanda anonima che mi chiede Ciao Massimo, quali sono le leve psicologiche che possiamo usare per essere più persuasivi? Per rispondere a questa domanda prendo un piccolo capitolo, un elenco che viene tratto da questo libro questo è il marketing di Seth Godin, un libro oltretutto molto molto carino e inizio a elencare quali sono proprio i desideri, i bisogni e le passioni delle persone e che possiamo sfruttare appunto nel nostro marketing e usarle come leve persuasive. primo, avventura, molte persone amano l'avventura e quindi cercare di andare a sperimentare qualcosa di nuovo appartenenza, tante persone hanno bisogno di sentirsi parte di qualcosa hanno proprio bisogno di soddisfare questo tanto più che cercano ad esempio dei circoli delle squadre da tifare per essere insieme a tanti tifosi, partiti politici non importa quali sia il gruppo ma si cerca sempre di andare a soddisfare questo bisogno di appartenere a qualcosa comunità, stessa cosa, evitare cose nuove c'è una gran parte della popolazione che è terrorizzata dal fare qualcosa che non ha mai fatto quindi proprio uscire dalla propria zona di comfort e allo stesso tempo c'è un'altra fascia di persone che al contrario è terrorizzato di provare a fare qualcosa o acquistare ad esempio qualcosa che non è già stato provato testato e ritestato perché ha paura di prendere una fregatura quindi sono due tipi di personalità diverse che reagiscono più o meno allo stesso stimolo quindi evitare cose nuove ed è ripeto uno stimolo molto molto importante e forte controllo questo è uno stimolo che se prendiamo gli imprenditori di una volta, quelli vecchio stampo quelli che hanno bisogno di avere una visione dettagliata su qualunque cosa e sono quei classici imprenditori che non riescono a delegare nulla perché come fanno le cose loro non le fa nessuno e vogliono essere sicuri che ogni singolo pezzo della propria filiera sia perfetto questi se abbiamo un prodotto da vendere ad esempio che gli aiuta ad avere questo controllo sicuramente non le vada utilizzare creatività se prendiamo tutte quelle persone che hanno quella vena artistica sicuramente sono stimoli che le colpiscono cerco di andare un pochino più veloce se no viene una pillola da 25 minuti e non è il caso attività fisica direi che questo è abbastanza ovvio ci sono tante persone che davvero adorano andare in palestra, adorano come si sentono dopo essersi allenati adorano vedersi o sentirsi comunque in forma e vi dicendo leva leva fortissima piacere direi che non c'è bisogno di dirlo perché le persone tendenzialmente si muovono per due motivi o per la ricerca del piacere o per la fuga dal dolore quindi piacere è molto generico ma diciamo che lo potremmo declinare in tantissimi aggettivi diversi perché il piacere praticamente va a soddisfare qualunque tipo di altro elemento che abbiamo visto e che vedremo perché di fatto il piacere è ciò che tu provi quando ottieni qualcosa ad esempio se uno fa attività fisica prova piacere se è quel tipo di persona quindi è molto generico potere, questa è una cosa che attira tantissime persone quindi la possibilità di dimostrare quanto potere hanno questa è una leva fortissima libertà di espressione, questa direi che non ha bisogno di descrizione rassicurazione, questo è molto simile a quello che abbiamo visto prima ovvero evitare cose nuove perché sono quelle persone che hanno bisogno di essere rassicurati e proprio il sentirsi sicuri di fare la scelta giusta libertà di movimento, non c'è nulla da dire affidabilità, molto simile agli altri amicizia, questa anche è una leva molto forte simile all'appartenenza ci sono persone, io sono tra quelli che mettono l'amicizia tra il più alto dei propri valori quindi per me l'amicizia è una cosa importantissima ed è una leva che si può appunto utilizzare il rispetto, questa è una cosa che purtroppo è una leva fortissima tanto più che per mancanza di rispetto come si sente dire perché le persone si sono sentite ferita sotto questo aspetto e le hanno portate a compiere gesti assurdi solo per sottolineare quanto è forte questo stimolo vendetta, stessa cosa la vendetta oltretutto come termine non mi piace ma possiamo anche declinarlo come senso di rivalsa ci sono tantissime persone che dopo avere subito quelle che loro hanno ritenuti ingiustizie hanno trovato quella forza per andare avanti nonostante mille ostacoli e sono riusciti a raggiungere il successo proprio per questo desiderio di rivalsa quindi mi piace più utilizzare rivalsa piuttosto che vendetta che è un pochino meno aggressivo salute, anche questa leva fortissima tante persone hanno paura di invecchiare di vedersi vecchi o di ammalarsi e la salute è assolutamente una leva fortissima romanticismo, anche questa è una leva molto forte proprio perché ci sono persone che adorano le cose romantiche e sono proprio attratte se un uomo deve fare ad esempio un regalo a una donna che solitamente le donne sono molto più romantiche degli uomini e vuole fare un regalo per sorprenderla regalarle ad esempio la famosa cena romantica è una cosa che tocca poi più siamo bravi a creare questo effetto questa sfera di romanticismo più saremo efficaci nella nostra comunicazione saremo più bravi nel vendere imparare cose nuove anche questo è una leva molto molto forte tante persone hanno capito che ciò che fa veramente la differenza nel mondo d'oggi non è tanto la qualità fisica quanto le competenze quindi ciò che noi sappiamo e come sappiamo metterle in pratica quindi è una leva che possiamo sfruttare sicurezza questo è molto simile a quello che abbiamo visto prima la rassicurazione oltretutto la sicurezza è il secondo livello della piramide di Maslow quindi uno dei bisogni primari proprio le persone hanno bisogno di sentirsi sicure una volta era avere da mangiare avere un tetto sopra la testa nel mondo di oggi probabilmente più un avere un lavoro quindi riuscire ad arrivare a fine mese però il concetto è lo stesso lusso anche questo è una leva forte che si avvicina molto al potere che abbiamo visto prima protezione stessa cosa molto simile alla sicurezza nostalgia questa è una leva che si può sfruttare perché c'è un bio psicologico che ci fa vedere le cose vecchie il nostro passato i nostri ricordi molto più belli di ciò che effettivamente erano nel senso che noi oggi viviamo un'esperienza tutto sommato ci è piaciuta se la rivediamo tra dieci anni riguardando appunto al passato ce la ricorderemo molto più bella di quello che era quindi è una leva che si può sfruttare sesso anche qui direi che non ha bisogno di descrizione compassione questa è una leva fortissima non a caso ci sono così tante associazioni benefiche persone che donano perché vedono la difficoltà che stanno vivendo le persone ne sono colpite in maniera forte quindi vogliono contribuire per cercare di migliorare la situazione infine eccitazione questo racchiude una serie di stimoli molto più ampi immaginiamo un salto colpare a caduta sicuramente vai a muovere questo stimolo qui l'eccitazione anche se è molto soggettivo perché ciò che una persona potrebbe far eccitare ad esempio un salto colpare a caduta qualcun altro potrebbe completamente terrorizzarlo quindi è molto molto soggettivo direi che mi fermo qui per oggi ho fatto una panoramica abbastanza lunga sono andato anche un po' troppo lungo come tempi rispetto alla solita pillola se volete approfondire questo argomento io consiglio questo è il marketing di Seth Godin ne parla solo in questo capitolo però il concetto tutto sommato è molto semplice individuiamo perché una persona compra da noi il vero motivo e poi andiamo a lavorare su quello stimolo e individuarlo è molto più facile di quello che sembra con questo è tutto io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani ciao aggiungo di questo libro ne ho parlato diverse volte nelle vecchie pillole quindi se torni indietro se cerchi sul mio canale questo è il marketing trovi tanta roba almeno 3-4 pillole gli ho fatto perché è davvero un bel libro poi ti ricordo che se non sei ancora iscritto alle mie pillole di business di farlo tutte le mattine alle 7 riceverai una mail riguardante marketing business e crescita personale è una mail che si legge in 2-3-4 minuti al massimo tratto un argomento alla volta molto specifico e lo scopo è quello di portarti uno spunto di riflessione alla mattina che ti accompagnerà durante tutta la giornata è gratis ci si iscrive con un click se non ti piace ci si cancella con un click per cui pillole di business.com corri ad iscriverti con questo è tutto io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani ciao grazie a tutti grazie a tutti